Mi svesto un attimo dei panni di portavoce, dei deputati del PDL e posso dirle io personalmente cosa auspicherei, cosa desidererei, ma ovviamente è un mio auspicio personale, un mio desiderio personale. Io credo che sia arrivato anche per il Quirinale, anche per il Colle, il tempo delle donne. Oggi abbiamo ascoltato le bellissime parole di Papa Francesco sul ruolo delle donne, sull'importanza delle donne anche nella testimonianza della fede. E non sono tante le donne in Italia che potrebbero vestire questi panni? Diciamo che ci sono donne che hanno una figura di grande prestigio nazionale e internazionale. Io ne ho in mente qualcuna. E ce lo dica allora, onorevole. A me piacerebbe moltissimo Emma Bonino, è una donna che su alcune posizioni è molto distante rispetto a me, diversa per provenienza, per cultura politica. Però ecco, io mi sentirei garantita da una donna come Emma Bonino e le ripeto, è un mio desiderio personale perché credo che non solo sarebbe una figura di garanzia, ma sarebbe anche un grande segnale di rinnovamento e di modernità.